sta funzionando quando la tv non si accende sei al buio o il cibo nel frigo inizia a puzzare la risposta è ovvia no non sta funzionando è facile capire quando un letto domestico non sta funzionando e la soluzione può essere ovvia ma ci sono gli letto domestici e poi c'è la tua vita dove le tue soluzioni potrebbero non funzionare così bene potrebbe essere utile notare che provare la stessa soluzione ripetutamente non ti porta verso quello che vuoi e quello che è davvero importante per te per esempio magari avere maggiore armonia nella tua vita l'act può aiutarti a notare cosa funziona e cosa non sta funzionando per te e cosa potresti fare diversamente per avere gli strumenti per cambiare cosa non sta funzionando cosa non sta funzionando per te e cosa potresti fare diversamente per te e cosa potresti fare diversamente